Il canicino che c'è, non è stato fatto tutti. A causa dei tanti combinati dal governo, Berlusconi e la sua parruccia del Partito Democratico. Anzi, partendo, ha fatto un'esperazione, tutto, a causa di un paramento del governo, ha riuscito a fare i trechi, hanno cercato di prendere la casa, che ci ha portato un'altra cosa. Il piano del mare della Orifigia ha venuto da scuola per il ripicio. Abbiamo tutta la struttura di insediare le commissione in 17 novembre e abbiamo avuto, purtroppo, con la possibilità di convocare la commissione a prima commissione il 21 novembre. Ma la metatrice del trascendentale, con consentire, alla data del 21 novembre, di approvare un piano di una patricione a tutti, è impossibile. C'era il premuto. Tutta per la nostra scuola, la cia d'occhio. Certo. Tutta la cia d'intuizione di presidenza. Ma quello che ci ha detto è il primo che ci sta presentando la struttura. Qual è? Qual è? E che cosa che non è nel frigo? Che cosa? La servizione di Lone e... E quindi il primo ottobre ci chiamiamo di dire che non hanno avuto un avuto! Ma non ci abbiamo alcuni vetticchi, non ci abbiamo una scuola ma, non ci abbiamo alcuni vetticchi e ma, non ci abbiamo alcuni vetticchi Allora, qui passiamo, giriamo al punto anche sotto.